Vasta operazione delle fiamme gialle contro l'immigrazione clandestina domenica scorsa nel Mediterraneo. L'operazione, denominata Nevermore, mai più, ha consentito di intercettare un peschereccio di circa 30 metri, utilizzato come nave madre con un'imbarcazione a rimorchio, dove erano stipati 226 migranti, destinati a sbarcare sulle coste calabresi. A seguito di attività investigative condotte dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e dal reparto operativo aeronavale di Vibo Valencia, sono state predisposte mirate operazioni di pattugliamento nelle acque internazionali del Mediterraneo, lungo le rotte percorse dai trafficanti di esseri umani verso le coste italiane. Il peschereccio era stato avvistato da un mezzo aereo sabato scorso, poco dopo le 13, e monitorato di continuo. Poco prima di mezzanotte, a circa 210 miglia da capo spartivento, dal natante erano state trasbordate decine di migranti, fino ad allora stipati al suo interno sull'imbarcazione a rimorchio. Tutto è stato ripreso dalle telecamere ad infrarossi dei mezzi aerei, come vedete nelle immagini delle fiamme gialle. E' scattata allora l'operazione in mare. Un pattugliatore d'altura del gruppo aeronavale di Taranto si è diretto verso il peschereccio, mentre un pattugliatore veloce del gruppo aeronavale di Messina si è diretto verso l'imbarcazione più piccola che trasportava i migranti. Alle 10 di domenica il peschereccio è stato fermato in acqua internazionale, a un centinaio di miglia dalle coste libiche. Le fiamme gialle di Taranto hanno effettuato accurati controlli a bordo. Il peschereccio, senza bandiera né documenti, è stato sequestrato. I 17 presunti scafisti a bordo, di presumibile nazionalità egiziana, sono stati fermati. Nel frattempo, altre due unità della Guardia di Finanza di Messina e Crotone hanno raggiunto l'imbarcazione più piccola, diretta verso la Calabria, e hanno prestato soccorso ai 226 migranti a bordo condotti nel porto di Reggio Calabria. I migranti, di presunta nazionalità siriana ed egiziana, erano 102 uomini adulti, 45 donne e 79 minori. Hanno dichiarato di aver pagato 3.000 dollari per effettuare il viaggio illegale e pericoloso verso l'Italia.